E a Trieste in questi giorni la dottoressa Chiara Castellani, una donna coraggiosa che non appena laureata ha svolto la propria professione con uno spirito quasi da missionaria, prima in America Latina, poi nell'attuale Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire. Un territorio ricco di materie prime, perciò sempre preda di interessi altrui, ma non solo. Il 10% dei straricchi si è ulteriormente arricchito, anche perché questo paese, come risorse del sottosuolo, è terribilemente ricco e il 90% più povero è diventato ancora più povero in una situazione proprio di ingiustizia sociale in cui il personale dello Stato non è pagato, in cui i diritti umani fondamentali sono calpestati. Impegnatasi a partire dagli anni 90 nelle emergenze sanitarie quali l'epidemia di Ebola, il diffondersi della tubercolosi e dell'AIDS, attualmente missionaria laica nell'ospedale di Kimbau, Chiara Castellani è l'unico medico curante per 150.000 abitanti in un territorio che copre 5.000 km quadrati. A quelle latitudini, comprensibilmente la polemica tutta dell'Occidente sui vaccini, appare nella sua incongruità. Assurdamente c'è chi rifiuta il vaccino o magari rifiuta quelli che sono i vaccini finanziati dal programma su base scientifica, come il vaccino dell'emofilo influenza, che è gratuito in Italia, obbligatorio, e chiede, perché si sente di casi di meningite, chiede il vaccino della meningite senza rendersi conto che la maggior parte dei casi di meningite sono sporadici e sono premenibili con quel vaccino che viene rifiutato. L'ottoressa Castellani poi ha un'idea ben precisa sulla possibile ricomparsa di malattie che si credono debellate, da imputare non tanto ai flussi migratori, quanto ad una ragione che chiama in causa un intero sistema. Sicuramente il riscaldamento del pianeta può riportare e riproporre molto di più che la migrazione delle patologie, i cambiamenti climatici.